Benvenuti a questa nuova edizione di Licata News che apriamo anche oggi occupandoci di demolizioni mentre prosegue tra Marianello e Gallo d'Oro il fronte degli abbattimenti di immobili abusivi oggi manifestazione organizzata dal Comitato per la tutela della Casa PDA E' stato ultimato l'abbattimento di una delle due villette di contrada alla banca Monzerrato il cui ex proprietario aveva deciso di demolire autonomamente sul versante di Levante e sta proseguendo l'opera demolitoria intrapresa sulla villetta di contrada Gallo d'Oro come comunicato dal Dipartimento Lavori Pubblici l'abbattimento di questo immobile è però destinato ad andare per le lunghe poiché al suo interno è stato rinvenuto a mianto, materiale che necessita di uno smaltimento differente rispetto al resto della risulta generata stop momentaneo anche alle trattazioni degli incidenti di esecuzione presentati è verosimile che se ne parlerà non prima del 7 giugno prossimo da quanto abbiamo appreso sarebbe poi in fase di redazione un nuovo elenco da parte della Procura della Repubblica di Agrigento contenente una nuova lista di costruzioni da abbattere di cui non è ancora stata però comunicata la zona il Comitato per la tutela della Casa nei giorni scorsi ha presentato una relazione sulle modalità di smaltimento del materiale da risulta generato dalle demolizioni ed è stato confermato che si attende l'intervento dell'autorità competente in materia lo stesso Comitato intanto ha organizzato per questa sera con inizio alle ore 19.30 una manifestazione in piazza Progresso durante la quale verranno proiettate delle video e immagini riguardanti le demolizioni degli immobili abusivi una manifestazione era già stata svolta la scorsa settimana con il corteo che aveva terminato la propria corsa a ridosso di Palazzo di Città il Tribunale di Agrigento nella giornata di ieri ha emesso la tanto attesa sentenza relativa al processo scaturita dall'inchiesta Tetris nata nel 2009 in seguito ad alcune denunce effettuate dall'ex consigliere comunale Giuseppe De Francisci in particolare si faceva riferimento ad un giro di presunti illeciti nell'aggiudicazione degli appalti per i servizi sociali da parte del Comune condannati a un anno di reclusione con pena sospese per abuso d'ufficio Giovanni Calogero Lattuca, 50 anni ex dirigente del settore servizi socioassistenziali Anna Maria Principato, 60 anni responsabile di area dello stesso settore e Maria Rita Borsellino, 42 anni legale rappresentante della società Tetris Indagini concluse e relativa notifica da parte della Procura della Repubblica di Agrigento a nove persone residenti nella città dei Templi ad Aragona in un'inchiesta che ha avuto inizio nel 2012 e che vede coinvolti accusati di un presunto giro di droga per fatti avvenuti a Favara, Aragona e Agrigento notifica di conclusione delle indagini per nove persone, come detto, in apertura Il prefetto di Agrigento Diomede ha parlato durante il coordinamento dell'ultimo sbarco di migranti avvenuto a Porto Empedocle, vediamo l'intervista realizzata da TV Agrigento Ciao prefetto, siamo qui al porto di Porto Empedocle, tutto pronto in attesa dei migranti che stanno arrivando se ci puoi aggiornare sulla situazione? Sì, no, siamo stati messi in preallerta già da ieri e quindi la macchina si è messa in moto anche perché questo è il primo sbarco qui a Porto Empedocle nel 2016 La maggior parte di loro saranno trasferiti immediatamente una volta esaurite le operazioni all'interno della tendostruttura non saranno trasferiti invece le persone di provenienza tipo siriani, eritrei cioè nei confronti dei quali può essere attivata la procedura di cosetta relocation comunque la maggior parte verranno trasferiti direttamente qui dal porto di Porto Empedocle una parte rimarranno al Villa Sicania, stamattina dal Villa Sicania 200 sono partite per altre destinazioni purtroppo ci sono queste 5 persone che hanno perso la vita Noi abbiamo recuperato questa gente in una situazione piuttosto estrema nel senso che questo barcone purtroppo era stipato di gente ed in molto precarie situazioni di galleggiamento quindi c'è stata una serie di situazioni concomitanti direi da una parte il sovraffollamento, dall'altra il mare che c'è sempre e anche il fatto che il barcone, comunque il peschereccio, era un piccolo peschereccio alla fine aveva già imbarcato acqua ed questo era evidente non ultimo l'agitazione della gente l'agitazione della gente che la gente giustamente ha paura quando ha paura non sta calma e se ti muovi di un lato e dall'altro è pericoloso su una barca emozioni molto forti anche perché io in prima persona mi sono messo fisicamente ad urlare alla gente dicendogli state seduti, state calmi non vi muovete, vi salveremo tutti, ci vorrà del tempo però aspettate, credeteci però purtroppo non li ho convinti Quanto ha durato il tempo dell'operazione? Le coordinate a memoria è impossibile che gliele dica le operazioni fuori tutto è almeno 3-4 ore dall'inizio dell'operazione alla fine è almeno 3-4 ore le coordinate non le sono a memoria vi posso dire che eravamo assolutamente in acque internazionali ma nelle immediate vicinanze delle acque territoriali libiche una volta che le avevano recuperate tutti poi mi sono bardato come tutti quelli vestiti di bianco la mascherina, le cose sono andato sul ponte di volo e c'erano tanti bambini io avevo dato la priorità salvare prima, imbarcare prima donne e bambini in questo modo c'era una bambina di meno di un anno che giocava con un sacchiotto bianco più grande di lei che i miei uomini hanno trovato non so bene come a bordo adesso le anni militari evidentemente ce le hanno e la bambina mi sorrideva e quella è stata la gioia più grande non è un momento facile questo ve lo posso dire l'impegno, io posso parlare soltanto come comandante di nave bettica l'impegno è massimo assolutamente noi finiremo qui e riusciremo in mare e niente, ci proviamo ci mettiamo veramente il cuore e l'anima io dico sempre che il comandante senza l'equipaggio non è nulla queste navi hanno degli equipaggi d'oro sicuramente fra misti alla folla c'erano anche gli scafisti è diventata in pochissimi minuti il simbolo della speranza della misericordia ma anche di ciò che l'uomo è capace di fare in negativo Favur, la piccola bimba nigeriana di appena nove mesi è arrivata a Lampedusa senza madre il primo a soccorrere la piccola è stato il medico di Lampedusa il dottore Pietro Bartolo che afferma chiamano da tutta Italia il telefono del nostro ambulatorio già da ieri squilla in continuazione sono famiglie che vorrebbero adottarla che supplicano di poter crescere quella bambina anche io ci ho fatto un pensiero se potessi la adotterei ma non sarà possibile perché ci vogliono dei particolari requisiti per poterla adottare ed io ormai ho 60 anni e non credo che me la fiderebbero è una bella giornata per gli ovicoltori siciliani finalmente il nostro olio di oliva è riconosciuto prodotto d'eccellenza Lorenzo Noto è il vicepresidente della commissione sanità Lars Vincenzo Fontana il quale prosegue ricordando l'altissima qualità oggi riconosciuta delle 50.000 tonnellate di oro verde spremuto ogni anno in Sicilia li vedo già nitidi i nuovi orizzonti che si apriranno per la giusta opportunità di rilancio del comparto il marchio IGP dell'extravergine di Sicilia riprende il deputato regionale NCD tutela il consumatore così come il produttore anche perché implica la continua certificazione che ogni fase di lavorazione dalla coltivazione alla molitura venga operata nell'isola l'obiettivo conclude Fontana è comunque quello di conquistare nuove effette di mercato nuovi arresti nel secondo filone dell'operazione Icaro i dettagli nel servizio di TVA operazione Icaro secondo filone nella notte la polizia di stato ha arrestato 8 persone sono accusate a vario titolo di associazione mafiosa estorsione, riciclaggio, danneggiamenti detenzione illegale di armi da fuoco e relativo munizionamento ed ancora loro carico detenzione di sostanze stupefacenti rapina aggravata dall'uso delle armi tentativo di omicidio i destinatari delle misure cautelari sono Mauro Capizzi, 48 anni, di Ribera Diego Grassadone, 55 anni, di Cianciana Antonino Grimaldi, 49 anni, di Cattoli Caracrea poi tre esponenti di Santa Margherita si tratta di Santo Interrante, di 35 anni Giacomo Lasalla, di 48 anni, Stefano Marrella, di 60 anni e infine Vincenzo Marrella, di 61 anni e Francesco Tortorici, di 37 anni entrambi di Montallegro Questi arresti, come dicevamo, sono la prosecuzione dell'operazione antimafia Icaro condotta dalla squadra mobile di Palermo e Agrigento che il 2 dicembre scorso portò all'esecuzione di 13 misure cautelari la DDA palermitana aveva richiesto per gli indagati l'emissione delle misure della custodia cautelare in carcere richiesta che non era stata accolta dall'Egip di Palermo Il Tribunale del Riesame ribaltò la decisione del giudice per le indagini preliminari I ricorsi per Cassazione proposti sono stati rigettati dalla Suprema Corte che ha confermato i provvedimenti del Tribunale del Riesame ribadendo con favore il lavoro svolto dagli investigatori che avevano ricostruito l'organigramma mafioso da Agrigento e provincia e i rapporti tra Agrigento e Palermo nella gestione degli appalti gli arrestati di oggi sono stati rinchiusi nel carcere Petrusa di Agrigento Raffica di multe nei confronti di automobilisti agrigentini da parte degli agenti della Polstrado e della Città dei Templi impegnati nella repressione del fenomeno delle automobili circolanti senza copertura assicurativa Negli ultimi giorni sono stati 7 i proprietari di auto sanzionati per i sprovvisti di assicurazione RCA obbligatoria per legge Prosegue l'attività dell'ufficio gara del libero consorzio comunale di Agrigento che in qualità di stazione unica appaltante ha giudicato un appalto per conto del comune di Racalmuto si tratta della procedura aperta relativa ai lavori di manutenzione straordinarie del castello Chiara Montano di Racalmuto alla quale hanno partecipato 144 imprese che è stata giudicata provvisoriamente all'impresa Elsa con sede a Pace del Mela in provincia di Messina che ha offerto un ribasso dell'11,6% Nessuna proroga per la presentazione dei bilanci dei comuni siciliani in crisi economico-finanziaria i particolari nel servizio di Ilania Bona Niente proroga per la presentazione dei bilanci dei comuni siciliani in crisi economica-finanziaria La notizia è stata data direttamente dal ministro dell'interno Angelino Alfano ai 200 sindaci dei comuni siciliani presenti a Palermo per affrontare la drammaticità finanziaria dei comuni costretti ad operare in gestione provvisoria in considerazione dell'impossibilità di procedere all'approvazione dei bilanci Una situazione che come noto riguarda il comune di Licata ed è per questo che anche il sindaco Angelo Cambiano si è voluto recare a Palermo insieme agli altri rappresentanti dei comuni siciliani per affrontare l'emergenza Ma il ministro Alfano ha alzato le braccia comunicando che non sarà possibile disporre il rinvio dei termini per la presentazione dei bilanci dei comuni siciliani in crisi economica-finanziaria come avvenuto nel 2015 Lo scorso anno la richiesta arrivò nei termini e Alfano decretò il rinvio dei termini per la presentazione dei bilanci salvando dal default moltissimi comuni anche se in tanti sono ancora in bilico Quest'anno i comuni pensavano di farcela A far saltare tutte le previsioni è stata la circolare regionale che invita a non mettere in bilancio le somme previste dalla legge di stabilità regionale per interno Si tratta delle somme che erano state inserite in finanziaria sottraendole, non senza polemica, al fondo pensioni dei regionali Ma la scorsa settimana la regione ha scritto ai comuni invitandoli a mettere in bilancio solo il 30% di quelle risorse Così è scattato l'allarme default di massa e la richiesta di incontro al ministro per tentare di prendere almeno tempo Non posso firmare una proroga per i bilanci come fatto nel 2015 dichiara Alfano perché stavolta la richiesta è fuori tempo Il ministro non ha però chiuso del tutto la porta Ci vuole un decreto legge, ha aggiunto lasciando qualche speranza anche se con tempi e modi certamente diversi e più lunghi Alfano ha assicurato ai primi cittadini dell'isola che rappresenterà la condizione politica istituzionale che ha trovato in questa assemblea Farò valere, ha aggiunto, con il presidente del consiglio la mia voce da ministro e anche da partner istituzionale del governo, ha aggiunto per fare presente che non avete presentato un bilancio preventivo perché siete inefficienti ma perché non c'erano le condizioni per farlo Mi farò carico di fare un lavoro permanente presso la prefettura di Palermo, ha aggiunto Alfano un lavoro politico istituzionale per quanto riguarda l'ipotesi di un decreto legge e una verifica immediata con il governo I sindaci restano adesso in attesa di riscontri e prese di posizione da parte del governo regionale e nazionale C'è il break pubblicitario, tra poco Questo programma è offerto da C'è Amiche Licata, lo stile italiano che ha re La fiorentina con Reddit sconta tutta la merce, fino al 50% World Tour Malaterra Gigi D'Alessio in concerto il 7 agosto a Licana Domani a Licata cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata Non sono previste piogge La temperatura massima registrata sarà di 25 gradi La minima di 19 gradi I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord-est Al pomeriggio deboli e proverranno da ovest Mare mosso Umidità oscillante tra il 49 e il 50% Questo programma vi è stato presentato da Dai Fratell'Antona, grande la qualità di piccolo, c'è soltanto il prezzo La cultura, in apertura di seconda parte, domenica 26 giugno, nella prestigiosa sede di Palazzo Cosentini a Ragusa Ibla, sarà consegnato al sociologo Francesco Pira il premio internazionale barocco 2016 come riconoscimento per l'impegno profuso nella ricerca scientifica nell'ambito della sociologia e della comunicazione. A comunicarlo a Francesco Pira, docente di comunicazione all'Università di Messina, il presidente regionale dell'Accademia Internazionale Città di Roma che organizza l'evento, maestra d'arte e pittrice Maria Ventura. Lo sport calcio c'è attesa in casa Licata Calcio per conoscere l'esito della domanda di ripescaggio in eccellenza presentata dalla società di servizio. Primi movimenti in casa Licata Calcio a renderli noti è stato il direttore sportivo Angelo Curella già al lavoro per programmare il prossimo campionato. Ai nostri tifosi posso dire sicuramente una cosa alle sue parole, ci stiamo muovendo per allestire una squadra da primato, qualsiasi sia la categoria dove andremo a giocare. L'iniezione di fiducia che ci è stata data dal pubblico in occasione della finale playoff con il Canicattì è stata troppo grande e rimaniamo convinti che a Licata si può fare calcio. In itinere, come annunciato nelle scorse settimane, c'è la domanda di ripescaggio in eccellenza già presentata dalla società. Aspettiamo novità da Palermo, continua Angelo Curella. Se saremo ripescati in eccellenza allestiremo un organico in grado di arrivare ai playoff. Nella malaugurata ipotesi che il ripescaggio non dovesse andare a buon fine, la squadra sarà invece costruita per vincere il torneo di promozione. Non ci sono ancora nomine a livello di allenatore né di calciatori. A livello di mercato siamo in stand-by, prosegue il direttore sportivo. Fino a quando non avremo individuato il nuovo tecnico non possiamo muoverci. Sarà con il nuovo allenatore che andremo ad operare sul mercato. In realtà abbiamo appreso che alcuni abboccamenti con atleti che hanno già fatto parte nella stagione passata dell'Icata ci sarebbero stati e la società avrebbe incassato una disponibilità di massima per proseguire il rapporto. Infine il DS si è augurato che anche il comune possa fare la propria parte. Gli spettatori venuti dal Dino Liotta testimoniano che l'Icata non può fare a meno della propria squadra di calcio. Il calciomercato è ancora lontano dall'entrare nel vivo. In casa di Cata Calcio l'attenzione è attualmente rivolta a quanto deciderà la Lega in merito alla domanda di ripescaggio presentata. Solo dopo aver conosciuto in quale campionato ci si iscriverà, si potranno iniziare a gettare le basi per pensare all'organico, al tecnico e all'estimamento della nuova rosa per la stagione agonistica 2016-2017. Chiudiamo con una notizia di basket. Cambio di date per la finale dell'Under 13 regionale. Inizialmente il match d'andata tra Cestisti Calicata e Olimpi Abbattiati era previsto per ieri pomeriggio, l'ufficio gare della federazione. Dopo un consulto con le due società interessate ha però spostato le due partite. L'andata si disputerà oggi pomeriggio nella palestra della scuola Marconi con inizio alle ore 17.30. Il ritorno al Palabattiati giovedì 2 giugno con palla 2 alle ore 18.00. Era questa la nostra ultima notizia. Grazie per la cortesa attenzione e arrivederci.